ciao a tutti e benvenuti sul canale di bpm power dove vi presentiamo tutte le novità e le occasioni del nostro store online oggi vogliamo soddisfare i nostri clienti appassionati di fotografia presentando la ista 360 x3 se desiderate catturare ogni momento senza preoccuparvi della angolazione perfetta della telecamera questa magnifica action cam sarà in grado di offrirvi un'eccellente qualità e flessibilità di ripresa lista 360 x3 offre risoluzioni fino a 5.7k 30 frame al secondo 4k 60 frame al secondo con foto fino a 72 megapixel questo permette una qualità cristallina per ogni scatto e video grazie all'active hdr la camera è in grado inoltre di catturare dettagli sorprendenti in ogni condizione di illuminazione garantendo immagini nitide e ben bilanciate il design è compatto e maneggevole le dimensioni minime il peso contenuto vi permetteranno di trasportare la vostra camera ovunque anche sott'acqua fino a 10 metri di profondità l'utilizzo è molto intuitivo grazie all'ampio touchscreen da 2,22 pollici e i quattro pulsanti fisici due laterali e due sotto il display sul lato troviamo il pulsante di accensione il pulsante del menu rapido quest'ultimo consente di accedere alla modalità preimpostata e quelle personalizzate ed è un modo eccellente per passare rapidamente dalle opzioni di ripresa preferite sotto il display si trovano il pulsante di registrazione il pulsante di selezione dell'obiettivo toccando il pulsante dell'obiettivo si passa l'acquisizione a 360 gradi e all'acquisizione con obiettivo singolo sulla fotocamera esterna o interna la base è dotata di una filettatura per il treppiede che consente la compatibilità con un'ampia gamma di accessori e può essere facilmente adattata per funzionare con i supporti tipo gopro sul lato opposto ai pulsanti si trova uno sportello impermeabile che protegge la porta usb c è una batteria rimovibile da 1800 mAh una caratteristica molto utile sicuramente la modalità di scatto automatico che permette di catturare istantanee perfette senza dover configurare manualmente le impostazioni della fotocamera rendendo la fotografia a 360 gradi accessibile anche ai principianti per coloro che invece preferiscono avere il pieno controllo la modalità manuale offre la possibilità di regolare ogni aspetto dall'esposizione al bilanciamento del bianco per personalizzare ogni scatto se non siete comunque soddisfatti del risultato finale lista 360 x3 vi consente di modificare e migliorare le foto direttamente sulla fotocamera grazie a un software di editing integrato grazie al quale riuscirete a regolare i parametri di esposizione saturazione e contrasto per ottenere un'immagine perfetta il software offre anche strumenti di taglio e raddrizzamento per eliminare eventuali distorsioni o inclinazioni e permette anche di aggiungere effetti speciali come filtri cornici sovrapposizioni e combinare più foto per creare immagini panoramiche ad alta risoluzione un altro punto di forza di questa action cam e la sua versatilità è infatti compatibile con tutti gli smartphone ios e android con pc macbook ed è inoltre collegabile con le principali piattaforme di condivisione di contenuti multimediali come facebook youtube e instagram in conclusione che voi siate da sempre appassionati di fotografia e videomating o dei principianti del settore non potete lasciarvi sfuggire all'insta 360 x3 la trovate a un prezzo incredibile cliccando il link in descrizione se questo video vi è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale di bpm power ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao